Ospedale San Bortolo Vicenza si torna alla normalità dopo tre mesi vissuti intensamente con un escalation di pazienti ricoverati, sale operatori che diventano terapie intensive, tour de force di medici e infermieri arriva un'ulteriore buona notizia. L'ultimo paziente ricoverato in rianimazione per Covid-19 è stato dimesso dal reparto ma non va ancora a casa. È stato trasferito in alta intensità della pneumologia con un'insufficienza respiratoria però ancora presente, permanente, non più grave come nel lungo periodo che è stato presso di noi ma presente. Covid-19 infatti può lasciare strasciche importanti se non addirittura cronici soprattutto se i danni ai polmoni sono stati importanti. L'organismo risponde con fibrosi, con cercare di guarire, cicatrizzare quello che è il danno ma ciò comporta una perdita di funzionalità polmonare e chi ha avuto infezioni gravi come in questo tipo verosimilmente avremo successivamente dei problemi legati all'insufficienza respiratoria cronica. Tutto dipende insomma da quanto e come ha colpito il virus e da quale è stata la risposta del nostro organismo. Tre mesi in cui le terapie intensive di punto in bianco hanno visto raddoppiare e triplicare i pazienti in una corsa alla riorganizzazione tra protocolli e step di attivazione, arrivando ad avere 50 terapie intensive a Vicenza pronte per far fronte alla pandemia. Nella realtà vicentina abbiamo avuto molti casi ma non c'è stato quell'ondata che tutti avevamo paura, quel venti dall'ovest che portassero il virus in quantità importante. Fondamentale ancora una volta la rete sociosanitaria sul territorio che ha evitato l'accesso incontrollato in ospedale. Il sistema ha retto ma rimane l'incognita di ottobre. Meglio però non pensarci che torni perché in un altro periodo è così meglio evitarlo.